Allora, ve lo dico sottovoce così lo sentono in pochi e rimane il nostro piccolo segreto. Allora, io i video che faccio per lo più cercano di fare incazzare determinate fanbase e un determinato pensiero utente. Il mio obiettivo è quello di far capire che nessuno è intoccabile, tutti sono toccabili, tutti sono giudicabili nel mondo dell'intrattenimento e nel mondo dei videogiochi. Per quello faccio quei video in cui sparo a zero. Partiamo dal presupposto che io non odio The Last of Us, The Last of Us Parte 2, ma io odio tutto quello che circonda The Last of Us, The Last of Us Parte 2. Tutta quella stampa videoludica che ne parla da anni ormai. Quindi non odio i fan, voi fan non ce l'ho con voi, ce l'ho con chi parla di questo gioco a sproposito, da anni ormai. Perché The Last of Us, The Last of Us Parte 2, sono dei signori giochi, sono dei bei giochi. Nessuno obietterà su questo. Possiamo obiettare sul fatto che siano capolavori o no, su quello io obietto. Ma sul fatto che sono bei giochi, che meritano di essere giocati, su quello non obietterò mai. Perché gli appassionati ci sono e ci saranno. The Last of Us è il gioco più venduto, tra i giochi più venduti di sempre, della storia dei videogiochi. È al cinquantesimo posto, dietro Kinect Adventure, però è al cinquantesimo posto. Insieme a Super Mario Bros, Frogger, Tetris, Pong e i mostri sacri dell'industria dei videogiochi. Quindi ha il diritto di essere considerato come un grande videogioco The Last of Us. Ma in questo video non tratterò questo argomento The Last of Us, se è bello o brutto. Ma tratterò la questione del Review Bombing. È vero, sono arrivato un po' in ritardo. Ma perché la voglio spiegare bene? Io ero presente, nel momento in cui Metacritic ha attivato la possibilità di recensire. Io ho visto le prime 500 recensioni, che sono di solito sempre quelle realistiche. E sì, c'è stato il Review Bombing, tanti zero, uno dietro l'altro. Ma questi zero non venivano da hater del gioco, da fan di Xbox, da bimbi minchia. No, venivano dai fan di The Last of Us. Perché lo dico? Perché quei zero avevano anche una recensione scritta, non erano degli zero mandati a caso. Le recensioni dicevano queste testuali parole. Ovvero, questo gioco è un dito medio a tutti noi fan di The Last of Us. Questo gioco ha una trama brutta al pari dell'ultima stagione di Game of Thrones. Questo gioco è noioso quanto la terza stagione di Stranger Things. E tante altre battute colorite per spiegare che aveva una trama che non era all'altezza del primo. Perché sappiamo tutti che il primo titolo non è amato per le meccaniche di gioco che anche i fan ammettono che sono scialbe. Ma era amato per quella trama che ha saputo coinvolgerli. Per quei personaggi che hanno saputo emozionarli. Quindi gli utenti si sono scontrati con un gioco che non era all'altezza delle loro aspettative. Quindi hanno fatto queste recensioni. Quindi questo è successo. Che poi la stampa ci ha marciato su. Ma come ci ha marciato su la stampa? Ricordiamo degli articoli che sono usciti dove la stampa dà dei cretini a chi ha fatto il review bombing. Praticamente questa stessa stampa che ha campato per tutti questi anni sui fan di The Last of Us ha insultato i propri fan. Ovvero ha insultato i fan di The Last of Us. Che a loro volta erano fan del portale. E hanno continuato a insultarli. È normale che poi gli utenti si sono incazzati. Perché? Cosa è importante? Quando si sta nel web. È giusto. Io posso capire che questi qua si sentivano dei guru. Che le persone ai loro piedi pendevano i loro piedi e potevano rifilarli qualsiasi monnezza loro volessero. Perché ormai sono diventati questi siti web dei cartelloni pubblicitari. Non sono più dei siti di informazione. Sono semplicemente dei cartelloni pubblicitari. Fatto sta che l'utenza non è cretina. Può essere a te devota. Ma l'utenza non è cretina. Se prendi in giro la loro intelligenza. Perché in questo caso in The Last of Us la stampa ha preso in giro l'intelligenza dell'utenza. Perché ha venduto un gioco con un 10. Nascondendo tutti i difetti. Che ben sappiamo. Ve li mostro un po' a video. Questi sono i difetti. Quindi questo gioco non è privo dei difetti. Non è questo capolavoro di perfezione. Come ce l'hanno venduto. E ci hanno venduto anche che il gioco aveva dell'innovazione. E abbiamo visto che innovazione aveva. Aveva innovazione in confronto al primo capitolo. Ma non per il mondo dei videogiochi. Tutte quelle meccaniche sono meccaniche classiche trite e ritrite nei videogiochi. Che tutti abbiamo visto. Anzi, meno male sono state ripristinate. Perché ho fatto un video vecchio tempo fa in cui mostravo che molte meccaniche si erano andate perse nel corso del tempo nei AAA. Però non per questo si tratta di un capolavoro rivoluzionario. No, è solo un bel gioco. E l'utenza lo sa. E i difetti li ha visti. Una volta padda la mano. E quindi si è sentita presa in giro dalla stampa specializzata. Creando così un bel corto circuito. Di cui sono esperti in molti siti. Perché alla fine il review bombing è fatto dai fan. Non da ragazzini rosiconi o omofobi come gli hanno dipinti i fan di The Last of Us. I fan di The Last of Us non sono bimbi minchia e omofobi. Mettetevelo in testa. Essendo un titolo amato per la trama. Potrebbe anche non essere piaciuta. Potrebbe anche non essere piaciuto il gameplay. E nonostante hanno villantato più volte il realismo. Chiunque padda la mano non si è trovato un gioco realistico. Ma ha dovuto continuare a sospendere l'incredutilità. Come avviene in tutti i videogiochi. Quindi è un videogioco normalissimo. E poi stampa specializzata. Però trovare qualche difetto. Mostrargli i difetti. Perché comunque l'utente va a spendere dei soldi. Non lo riceve gratis come voi. Stampa specializzata. Non lo riceve una settimana prima gratis. Non riceve la collector edition serigrafata. Non riceve certi trattamenti. L'utenza va a lavorare e spende questi 70 o 130 euro. E quindi trovarsi dei difetti in un gioco che gli sono stati omessi dalla recensione. È normale che si incazza la fanbase. Normale. Voi invece tanto dei cretini state sostenendo che i vostri fan sono tutti stupidi. E che sono obbligati ad accettare quello che dite come oro colato. Altrimenti diventano omofobi, ignoranti, cretini. O non esperti di videogiochi che non hanno mai giocato i videogiochi in vita loro. Semplicemente perché non approvano quello che piace a voi. Ma la gente potrà essere, potrà scegliere il cazzo che gli piace videogiocare o no? Ve lo chiedo come se vi stessi guardando in faccia in questo istante. La gente può giocare al cazzo che gli pare. Può scegliere a cosa giocare senza che ve glielo impugnate. Nascondendo i difetti. Che ci voleva come ha fatto Ars Tecnica o Polygon a mostrare i difetti. O come ha fatto il sito Cugin. E non venderà un gioco come fa Mastrota o nelle televendite più squallide. Che ti vengono il prodotto che non funziona. E ti nascondono tutti i difetti facendo tu passare come grandioso. Questo dovreste capire. E poi vi attaccate tanto a Metacritic. Ma sappiamo tutti che a Metacritic sta bene così il sistema. Se voi dite che c'è tanta utenza che non l'ha giocato e è andato a bombardare Metacritic. Perché Metacritic allora non fa che un utente si logga? Collega il proprio account e fa vedere quante ore ha giocato al gioco prima di poterlo recensire. Perché non lo fa? Fatevi due domande e date una risposta. Io posso solo dirvi che per me Metacritic gli sta bene così. Perché poi tanto diventa tutto review bombing. Vero? E un'altra cosa, ultima cosa, che io ho odiato di questa situazione che si è creata oggi. Si è creata in questi giorni. E perché hanno difeso a spada tratta come review bombing proprio Death Stranding e The Last of Us parte 2? Perché non hanno difeso a spada tratta Kunai? Non hanno difeso a spada tratta un sacco di giochi che hanno subito review bombing ingiustamente. Riguardo alla storia di Kunai vi lascio un altro video in descrizione che lo spiega meglio. Non mi adentrerò nella storia di Kunai. I titoli che subiscono questo trattamento tutti i giorni sono tantissimi. Però la stampa si è schierata nella difesa solo di Death Stranding e The Last of Us platealmente. Dando anche dei cretini ai fan The Last of Us. Mentre un più recente Valorant, tartassato solo perché aveva problemi al lancio. Come un qualsiasi gioco online. Siete stati in silenzio. Così con Mass Effect Andromeda. E tanti altri titoli che non erano da zero. Però lì non avete obiettato che gli utenti non hanno messo sette. Ma hanno messo zero. Perché per questi titoli siete stati zitti? Al contrario che per The Last of Us. Perché siete stati muti con loro? Poi per ribadisco, per quanto riguarda per me The Last of Us o un Valorant. Sono due ottimi giochi. Che non si meritano ovviamente zero. Ma il mettere zero da parte dell'utenza in tutti i casi. Eccetto quelli palesemente per noia. Sono stati solo un segnale per segnalare problematiche di un gioco. Il mettere zero da parte dell'utenza in tutti i casi. Sono stati sempre solo un modo per segnalare diverse problematiche. Perché è ovvio che zero non è un voto reale su un videogioco. Mi pare ovvio. Ma sapete perché avviene ciò? Perché Metacritic User Score rimane l'unica valvola di sfogo per far sentire la voce degli utenti in un sistema di informazione che latita nella difesa del videogiocatore. Vorrei farvi un appello. Siete nella posizione in cui qualsiasi cosa voi diciate o facciate ha un'eco mediatica forte. Ha una ripercussione sulla vostra immagine. Quindi molti di voi non dovranno lamentarsi se i detrattori penseranno che lo stiate facendo per convenienza, per visibilità. E d'altro canto vi dovete rendere conto che state alimentando il veleno nella vostra community. Vi basta guardare. Fatelo se non lo fate spesso. Guardate i commenti sotto i vostri post indignati e guardate in quale mare di veleno state facendo sguazzare la vostra community. Dovreste disinnescare dovreste usare le vostre competenze per riportare il discorso su una base più equilibrata. Parliamo di videogiochi. Non raggiungiamo il punto in cui si rischia che se qualcuno critica un'animazione o critica la bontà della storia debba essere tacciato di essere un fascista di essere un omofobo di essere una persona che non merita di esprimersi tutti meritano di esprimersi anche gli idioti ed è una cosa con cui conviviamo da sempre. Non possiamo puntare il dito quando noi stessi, come vi dicevo prima almeno una volta nella vita abbiamo fatto qualcosa del genere. Voi avete una responsabilità. Ora non è il momento di indignarsi così forte perché state semplicemente arruffando il popolo. Siate responsabili. Ve lo chiedo per favore. Utilizzate il vostro peso mediatico il vostro potere il vostro superpotere e quello di essere ascoltati dalle persone per disinnescare questa follia. Basta. Non contano i voti non contano i pareri quello che conta alla fine della fiera è chi ha giocato il gioco l'ha amato? Sì. L'ha odiato? Sì. È un'esperienza che resta a noi. non esiste un'universalità dell'esperienza. Ed è proprio questo il bello della natura del videogame che ognuno vive una sua esperienza. Voler stabilire un 10 uno 0 significa voler massificare e noi siamo per la diversità. Ecco questo è essere per la diversità.